Vuoi venire qua a dire qualcosa al microfono? Forse non ti serve il microfono perché sei tanto da dire Allora vieni qua, se hai tanto da dire vieni qua I ragazzi mi scuseranno dietro sempre Ciao, buonasera, io mi chiamo Salvo di Cristina e ci vengo a dire che io ho una divisa mi dosso una divisa ma mai, mi chiamo Salvo e ho una divisa e dosso una divisa come mestiere ma mai come oggi mi vergogno di servire lo Stato come questo non mi sono mai sentito prigioniero come adesso e questi politici, perché i nostri non sono politici o meglio fanno politica ma alla maniera greca sono direttamente collusi con la mafia e poi vorrei dire una cosa mi piacerebbe che l'Italia uscisse fuori non dall'Europa ma da questo tipo di Europa mi piacerebbe dire agli italiani che noi non siamo un paese europeo siamo il primo paese europeo ricco di cultura ricco di qualunque altra cosa ricco di agricoltura ricco di principi morali che quattro fanghi di politici ci hanno smertato ma noi la rivoluzione la dobbiamo fare e non solo per gli europei che già in passato hanno dimostrato di essere disertati questa è l'occasione buona per dire a questi politici che gli italiani e i palermitani oggi cominciano la rivoluzione vi vorrei parlare pure di fare appugli con i grandi poteri di quelli che distribuiscono il cibo addelenato vi vorrei parlare di agricoltura biologica di bioetica ma saremmo di qua dopodomani a parlarne di questo la vorrei togliere ancora la parola a questi cittadini grazie grazie grazie